Un incendio divampato questa sera, martedì 13 novembre, intorno alle 18.30, nelle cantine di un condominio situato in Corso Giulio Cesare a Torino. Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Torino, Icaro Fiamma, l'autoscala, il 118 e la polizia di Barriere di Milano. Il corso è stato bloccato al transito, fermate anche i mezzi pubblici della linea GTT. I soccorsi hanno fatto evacuare una cinquantina di persone, le quali in parte stavano già uscendo di spontanea iniziativa, in quanto il fumo stava salendo su per le scale. Una signora di 83 anni ha accusato un malore dovuto più allo spavento che al fumo respirato. In ogni caso, per precauzione, è stata accompagnata alla San Giovanni Bosco. Il fuoco è stato domato e spento e piano piano le persone sono state fatte rientrare negli alloggi.